L'Ammen scuola basket Arezzo bagna l'esordio in campionato con un prezioso successo nel derby contro la bestia nera Web Corner Sicci-Montevarchi per 59 a 55, una vittoria fortemente voluta dagli Amaranto che si sono liberati anche delle scorie negative delle sette sconfitte con cui hanno chiuso la scorsa stagione. Le basse percentuali al tiro delle due squadre non hanno mai permesso la gara di decollare dal punto di vista dello spettacolo con l'Ammen capace di condurla lungo nel punteggio. Dopo il 29 a 20 dell'intervallo lungo gli Amaranto provano ad allungare toccando il massimo vantaggio sul più 14, 40 a 26 prima di subire la rimonta di una determinata Fides che con un parziale di 9 a 0 a cavallo tra la fine del terzo quarto e l'inizio dell'ultimo passa per la prima volta in vantaggio. A questo punto l'Ammen tiene duro in difesa, mette dentro i liberi decisivi senza tremare dalla lunetta come è accaduto per gran parte del match. Alla fine sono Cutini e Provenzal a trovare a tempo fermo i punti della vittoria anche perché in difesa il quintetto di coach Delia riesce a limitare l'attacco e chiudere 59 a 55. Adesso l'Ammen è attesa da due trasferte consecutive che testeranno ulteriormente le potenzialità degli aritini in questo difficile campionato. Intanto si potrà lavorare con maggiore serenità in settimana grazie alla spinta morale della vittoria in un derby. Presidente Raggiante, ho detto moderatamente soddisfatto all'allenatore ma il Presidente penso che sia raggiante una prestazione di questo genere qui non soltanto dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista della forza della squadra e poi dal pubblico. Il pubblico è stato veramente quando nei momenti di difficoltà è stato il sesto uomo in campo. Allora Mauro Castelli, Presidente di questa società, siamo orgogliosi di questa squadra. Sì, innanzitutto bisogna comunque fare i complimenti anche a Montevarchi perché anche loro hanno una squadra fatta in casa con ragazzi propri. Questo vuol dire che il lavoro in casa paga e quindi innanzitutto quello. Poi io sono contento per una serie di situazioni. Il primo ovviamente è che il derby fa sempre piacere vincerlo, ovviamente. E quindi sono estremamente soddisfatto. Ho visto i nostri ragazzi che comunque tutti quanti si sono sbattuti fino alla fine. Quindi forse abbiamo fatto un paio di errori. Uno dal punto di vista emotivo, il fatto che i ragazzi erano no pronti, strapronti, stracarichi, forse un po' troppo e hanno giocato quasi tutta la partita con tratti. Nel momento in cui si sono un attimo rilassati c'è stato il recupero da parte di Montevarchi. Detto questo però, una cosa che va analizzata molto attentamente e questa mi fa ben sperare, è il fatto che noi questi tipi di partite negli ultimi 15 anni, da quando c'era la serie B a oggi contro Montevarchi, le abbiamo perse tutte. Questa volta invece, a pochi secondi alla fine, a pari punteggio o due più o due meno, siamo riusciti a portarla a casa.